Capitolo quarantacinquesimo Il 31 di agosto una speronara ci portò a Messina, dove alcuni giorni di riposo bastarono a rimetterci da tutte le nostre fatiche. Il venerdì 4 settembre ci imbarcavamo sul Volturno, uno dei postali delle messaggerie imperiali di Francia, e tre giorni dopo sbarcavamo a Marsiglia con una sola preoccupazione in mente, quella della nostra maledetta bussola. Questo fatto inesplicabile non mi dava requie. La sera del 9 settembre arrivavamo ad Hamburgo. Rinuncio a descrivere lo stupore di Mart e la gioia di Grauben. Ora che sei un eroe, mi disse la mia carissima fidanzata, non avrei più bisogno di lasciarmi Axel. La guardai, sorrideva tra le lacrime. Immaginate che sensazione produsse ad Hamburgo il ritorno del professor Linds. Per le indiscrezioni di Mart, la notizia della sua partenza per il centro della Terra si era sparsa per tutto il mondo. Non vi si volle credere, e rivedendolo vi si credette ancor meno. Tuttavia, la presenza di Hans e varie informazioni venute dall'Islanda modificarono un poco l'opinione pubblica. Allora lo zio divenne un grand'uomo, e io il nipote di un grand'uomo, ed è già qualche cosa. Hamburgo diede una festa in nostro onore. Allo Johannum ebbe luogo una pubblica conferenza durante la quale il professore raccontò la sua spedizione omettendo soltanto quel che riguardava la bussola. Nello stesso giorno, egli depositò negli archivi della città il documento di Saknussem, ed espresse il suo vivo dispiacere per il fatto che avvenimenti più forti dalla sua volontà non gli avessero permesso di seguire fino al centro della Terra le tracce del viaggiatore islandese. Fu modesto nella gloria, e la sua reputazione aumentò. Tanti onori dovettero necessariamente suscitargli intorno degli invidiosi, e siccome le sue teorie, fondate sopra fatti certi, contraddicevano i sistemi della scienza sul problema del fuoco centrale, egli dovette sostenere con la penna e con la parola discussioni importantissime con scienziati di ogni paese. Da parte mia non posso ammettere la sua teoria del raffreddamento, e nonostante ciò che ho visto, credo e crederò sempre al calore centrale. Ma confesso che certe condizioni ancora mal definite possono modificare tale legge sotto l'azione di fenomeni naturali. Mentre queste questioni fervevano, lo zio provò un vero dolore. Hans, nonostante le nostre istanze, aveva lasciato Hamburgo. L'uomo cui dovevamo tutto non volle che gli pagassimo il nostro debito. Fu preso dalla nostalgia dell'Islanda. Farval, disse un giorno, e con questa semplice parola d'addio partì per Reykjavik, dove giunse felicemente. Eravamo particolarmente affezionati al nostro cacciatore di Eider. La sua assenza non lo farà mai dimenticare da coloro ai quali egli ha salvato la vita. E certo non morirò senza averlo rivisto una volta. Per finire, devo aggiungere che questo viaggio al centro della Terra fece grande impressione nel mondo. Fu stampato e tradotto in tutte le lingue. I giornali più accreditati ne riprodussero i principali episodi, commentandoli, discutendoli, attaccandoli e avvalorandoli con uguale convinzione nel campo dei credenti e degli increduli. Cosa rara! Lo zio godeva dal vivo di tutta la gloria che si era acquistata, tanto che il signor Barnum gli chiese se accettava di farsi mettere in mostra negli stati dell'Unione a prezzo elevatissimo. Ma un pensiero, o meglio, un tormento, spuntava in mezzo a tanta gloria. Un fatto rimaneva inesplicabile, quello della bussola. Ora, per uno scienziato, un simile fenomeno misterioso si trasforma in un supplizio dell'intelligenza. Ma il cielo serbava allo zio una felicità completa. Un giorno, riordinando una collezione di minerali nel suo studio, vidi la famosa bussola e la esaminai. Da sei mesi era là nel suo cantuccio, ignara degli affanni di cui era la causa. A un tratto, quale fu il mio stupore? Gettai un grido e il professore accorse. «Che c'è?» domandò. «La bussola!» «Ebbene?» «Il suo ago indica il sud e non il nord.» «Che dici?» «Osservate, i poli sono invertiti.» «Invertiti?» Lo zio guardò, confrontò e fece tremare la casa con un valso altissimo. Che luce veniva a rischiarare contemporaneamente la sua e la mia mente? «Così, dunque!» esclamò quando poté parlare. «Dal nostro arrivo al capo Saknussem, l'ago di questa dannata bussola indicava il sud invece del nord.» «Evidentemente!» «Ora il nostro errore si spiega. Ma che fenomeno ha potuto produrre questo rovesciamento dei poli?» «È semplicissimo!» «Spiegati, ragazzo mio.» Durante l'uragano sul mare Lindebrock, quel globo di fuoco che calamitava il ferro della zattera agito semplicemente anche sulla bussola. «Ah!» esclamò il professore scoppiando in una risata. «Era dunque uno scherzo dell'elettricità!» Da quel giorno, lo zio fu il più felice degli scienziati e io il più felice degli uomini, poiché la mia bella virlandese, abdicando al suo stato di pupilla, prese posto nella casa di Koenigstrass nella doppia qualità di nipote e di sposa. È inutile aggiungere che suo zio fu l'illustre professor Otto Lindebrock, membro corrispondente di tutte le società scientifiche, geografiche e mineralogiche delle cinque parti del mondo. Ora, io vi ringrazio di aver ascoltato con me questo libro, di aver sopportato le mie pronunce islandesi di dubbia efficacia. E vi ricordo che nella descrizione di questo episodio e di tutti gli episodi trovate tutti i link per contattarmi, per chiacchierare con me, per mandarmi una mail, conoscermi meglio, eccetera, eccetera. Allora noi ci vediamo alla prossima lettura di Andante. Ciao!